Siamo al canto ventunesimo del paradiso, è il canto delle anime contemplative, è il canto del pianeta Saturno, il più alto tra tutti, quindi già in una posizione metaforica, il pianeta vuole cercare di in qualche modo rivelare la posizione di queste anime, quelle cioè che sono riuscite ad arrivare alla contemplazione di Dio. Attenzione che la contemplazione nella prospettiva mistica, indubbiamente come sempre il cuore dell'uomo deve aprirsi alla grazia divina, ma è un'azione che in una prospettiva di predestinazione è riservata a Dio, è Dio che eleva l'anima a se stessa. Detto questo solo come premessa, aggiungo come al solito per chi non avesse mai seguito i miei commenti alla Divina Commedia o alle poesie, che ho commentato alcuni segni che a volte rimangono lì e io non, specialmente la jambemà, non lo tengo in considerazione. Quando vedete la ilunga abbiamo la jambemà, vedete già erano gli occhi miei rifissi al volto della mia donna, vedete che la frase non termina a volto ma termina nel verso successivo. Quando vedete la A vuol dire che c'è un'anastrofe, per cui bisogna fare una costruzione, una costruzione che non è presente nella poesia, e da ogni altro intento si era tolto, e si era tolto da ogni altro intento, questa è la costruzione. Quando vedete che ce ne sono tante frequenti, il troncamento, che poi non è neanche corretto chiamarlo troncamento, lo chiamiamo troncamento, e quando troviamo... Dunque, le anastrofe sono sottolineate, o gli iperbati sono sottolineate, mentre invece i troncamenti li ho individuati in corsivo. Detto questo possiamo incominciare. Già erano gli occhi miei rifissi al volto della mia donna, e l'animo con essi, e da ogni altro intento si era tolto. I miei occhi rifissi da figere fixus erano di nuovo attenti, questo ri, dal senso della ripetizione, e fixus vuol dire ficcato, noi diamo un altro valore, peccato non è che vada molto bene, erano attenti. Siano rivolti di nuovo attenti a Beatrice. E non soltanto gli occhi, evidentemente, anche perché siamo in paradiso, quindi non ci dovrebbero essere distrazioni, e noi sappiamo che siamo spesso distratti, con gli occhi guardiamo, ma a volte il pensiero va altrove. Questo capita frequentemente, capita a scuola, quando i ragazzi ti guardano, pensi che siano attenti, ma in realtà la loro testa corre chissà dove. Capita nella preghiera, capita in tante situazioni, per la nostra imperfezione contingente. Qui ci troviamo invece in una condizione di perfezione, per Dante una semi-perfezione, perché ha ancora con sé il corpo mortale, però i suoi occhi sono rivolte a Beatrice, ma anche il suo cuore è attento a quello che dice Beatrice. E da ogni altro intento esserà tolto. E onie, come al solito, ho scritto semplicemente un termine latino, perché onie deriva da omnis, e si era svincolato da ogni altra cosa. Intento deriva da ing, tendere, tendere verso qualche cosa, no? Quindi si era liberato da ogni altra distrazione. e quella non ridea. Ma se io ridessi, mi cominciò, tu ti faresti quale fu semere quando di cener fessi. Beatrice non rideva. Noi abbiamo ormai l'abitudine di trovare Beatrice sorridente. Qui invece non sorride. Ridea è una caduta, rivela una caduta della labiale. Ridee, valav, non c'è. Per cui ridea, forma poetica. Ma, dice Beatrice, Se io ridessi, tu ti faresti, e abbiamo una similitudine, quale fu semere quando fessi di cenere, quando diventò di cenere. Spieghiamo alcune cose. Parte cenere, che è un troncamento, la similitudine che paragona Dante a questa semere, e vediamo chi è questa semere. poi abbiamo questo si fece, una fusione tra si e fece. E fece si presenta in apocope, perché perde il ce, finale. Chi è questa semere? Era l'amante di Giove, evidentemente a Giunone la cosa non piaceva, per cui Giunone, questa vigliaccona, aveva suggerito a Semele di girarsi, e quando Giove era nel sonno, mirarlo. La bellezza di Giove però era tale, perché era un dio, per cui Semele, solo a vedere la figura di Giove, si disfa, si annulla, diventa cenere. E quindi, di nuovo queste immagini mitologiche, che vengono recuperate da Dante, e che sono serenamente recuperate, in perfetto equilibrio, senza alcuno scandalo, diventano un elemento portante della sua poesia, si fondono nella sua poesia, il passato e il presente, il pagano con il cristiano. Attenzione però che non è sincretismo questo, stiamo parlando solo di immagini, che vengono recuperate, servono per l'estetica, per il progetto poetico, della poetica di Dante, a volte vengono recuperate, anche come le abbiamo viste, specialmente nell'Inferno, delle immagini, dei personaggi, recuperati, dalla mitologia greca, che assumono un altro ruolo, nella prospettiva dell'Inferno, o del purgatorio cristiano. Che, e spiega poi Beatrice a Dante, la ragione di questo, che la bellezza mia, che per le scale dell'eterno palazzo, più si accende, com'hai veduto, quanto più si sale, se non si temperasse, tanto splende, che il tuo mortal podere, il suo fulgore, sarebbe fronda, che trono scoscende. Dunque, qui c'è un tema, che io ho messo in evidenza, utilizzando il rosso, il color rosso. Lo splendore, la luce, io qui avevo, mi pare, l'avevo sintetizzato, vediamo se lo trovo, eccolo qui, Beatitudine, carità, amore, luce, conoscenza, assumono, gioia, vedete, gioia, anche gioia, bisognerebbe aggiungerla, no? Quindi qui, aggiungiamolo, così abbiamo messo tutto, vedete, qui abbiamo un rincorrere certe immagini, che sono sempre poi le stesse, la luce è sinonimo di carità, la carità non è una cosa astratta, fate bene attenzione, perché spesso e volentieri, i nostri predicatori parlano di una carità molto astratta, la carità si esplica con l'amore, l'amore è tipicamente evangelico, prima ama Dio con tutto il cuore, poi ama il prossimo come te stesso, ma questa luce, che è espressione di carità e amore, dà gioia, dà beatitudine, dà pace, e più la luce è intensa, più la conoscenza è intensa, quindi questi termini in tutto questo, sono termini che già troviamo negli altri canti in paradiso, ma specialmente in questo canto, là dove c'è conoscenza, perché la visione mistica è visione di conoscenza, sono termini che si ripropongono con particolare insistenza, io specialmente all'inizio, poi ho lasciato perdere, per non ripetermi all'infinito, li ho individuati nel colore rosso, allora, vediamo, che è la mia bellezza, che più si accende per le scale dell'eterno palazzo, come hai veduto, quanto più si sale, palazzo è una metafora, palazzo, qui è il regno di Dio, che viene definito palazzo, un po' come il palazzo di Versailles, per dire, la reggia di Caserta, per dire, dove c'è una corte, dove c'è un re, quindi abbiamo una metafora. Questa mia bellezza, se non si temperasse, temperasse da tempus latino, tempus viene tradotto come durata misurata, e da tempus durata misurabile, deriva il verbo temperale latino, che vuol dire regolare, se non venisse regolata, splende a tal punto, che il tuo potere mortale, notate, lo vediamo dopo, il tuo potere mortale, al suo fulgore, alla sua luce, sarebbe fronda, foglia, che il tuono spacca. Quindi abbiamo di nuovo una semilitudine, tu foglia di fronte a questa luce, come la foglia è tale di fronte al tuono, che la sbriciola. Poi, frondem vuol dire proprio in latino foglia, tronitus, il trono, attenzione che tronitus, che va poi a diventare tronus, in un apocope perde il tus finale e diventa tuono. poi questo spaccare che si rivela nello scoscendere, questo scoscendere è composto da s, da cum e da cindere. s ha un valore di separazione, la s ed è una fersi. Il cum di strumento e scindere che vuol dire dividere. Quindi, questo scoscendere intende qui sbriciolare, che il tuono sbriciola. Poi ancora vediamo perché non li ho ancora fatti tutti, questo podere, il tuo mortale dovrebbe essere potere, c'è molto spesso la sonorizzazione di una vocale sorda, la t e una dentale sorda, che diventa una dentale sonora, quindi diventa d, domodossola, quando si trova tra due vocali. Quindi, c'è la sonorizzazione della vocale sorda, dentale, intervocalica. Vediamo se abbiamo detto tutto, poi c'è ancora questo fulgere, fulgere, fulgore, da fulgere, fulgorem, che vuol dire splendore vivo. Abbiamo detto tutto sui vocaboli. Detto questo, poi sarebbe bello rileggerlo, no? se non si temperasse tanto splende che il tuo mortal podere al suo fulgore sarebbe fronda che trono scosciende. Continua sempre Beatrice. Noi sem levati al settimo splendore che sotto il petto del leone ardente raggiamo misto giù del suo valore. Noi ci siamo levati al settimo pianeta che è Saturno che è in congiunzione con il con il leone e mo vuol dire con una poco vuol dire modo modo è un avverbio latino vuol dire che ora che ora raggia raggia da radius radiare che ora illumina giù la terra col suo valore virtus virtutis valere valore forza con la sua forza allora notate qui che non chiama Saturno col suo nome ma lo chiama come splendore quindi una metonimia un attributo di Saturno diventa Saturno stesso dunque dunque notate la congiunzione leone Saturno Saturno leone Saturno è espressione dell'estasi leone è l'espressione dell'ardore quindi qui ci sono quelle anime mistiche che con ardore si sono si sono abbandonate a Dio e sono state elevate a Dio e la sua conoscenza già qui nella conoscenza in terra già qui nella vita loro in terra quindi lo rileggiamo noi ci siamo levati al settimo cielo poi ci sarà quello delle stelle fisse siamo in congiunzione con leone estasi ardore e questa loro luce ora con la loro forza irradia e alimenta il cuore degli uomini ficca di retro agli occhi tuoi la mente e fa di quelli specchi alla figura che in questo specchio ti sarà parvente ficca ritorniamo vedi sopra da Fisus guarda attentamente allora dietro ai tuoi occhi poni la tua mente il tuo cuore non limitarti a guardare e fai in modo che questi tuoi occhi possano cogliere come degli specchi quello che vedrai fra un po' e in questo specchio è una metafora perché prima abbiamo utilizzato un altro termine se vi ricordate abbiamo utilizzato splendore adesso specchio per dire di nuovo è in questo pianeta in questo cielo nel cielo di Saturno ti sarà chiaro quello che vedrai specchi e specchi utilizzati in questo modo il bisticcio paronomasia specchi definiti così gli occhi sono una metafora Saturno definito specchio è anche questa una metafora parvente parvente deriva da parere parentem latino ti sarà chiaro ti si rivelerà in questo specchio in questo pianeta quello che deve rivelarsi se tu sarai attento se tu porrai la mente dietro i tuoi occhi parentem diventa parvente ma con questa v in mezzo che è dunque un'epentesi qual savesse qual era la pastura del viso mio nell'aspetto beato quando io mi trasmutai ad altra cura conoscerebbe quanto m'era grato ubbidire la mia celeste scorta contrapesando l'un con l'altro lato chi sapesse qual era il piacere perché pastura lo chiamo piacere perché pastura deriva da pastura cibo beh quando uno ha fame e mangia in questo caso la fame di dante è una fame spirituale intellettuale quindi pastura qui vuol dire piacere ed è quindi una metafora chi conoscesse qual era il piacere del viso mio visus latino della mia vista nell'aspetto beato tutta rivolta all'aspetto beato di Beatrice quando mi trasmutai da trans e mutare muovere oltre quando mi rivolsi cura anche questo latino ad un'altra attenzione conoscerebbe anche quant'era per me gradito ubbidire a questa scorta celeste scorta vuol dire guida valutando contrappesando come se fosse una bilancia l'una esperienza con l'altra cioè l'ubidire e il contemplare io prima stavo contemplando Beatrice adesso alle sue parole obbedisco ma una cosa non è più pesante dell'altra una cosa non è più gioiosa dell'altra tutte e due portano nel mio cuore gioia perché ma lo vedremo anche dopo perché qui l'obbedire non è un peso è espressione di amore di carità e amore carità danno gioia e amore carità danno luce e amore carità danno conoscenza le cose questi elementi che ho già fatto vedere in rosso sotto si uniscono trovano la sintesi amore amore gioia luce conoscenza carità grazia sono una cosa sola è un po' come da Parmeni di Aplotino come se in questo mondo le cose o da Hussano nell'implicazio nell'esplicazio come se in queste cose come se in questo mondo tutto si moltiplicasse molto spesso in questo moltiplicarsi tutto si opponesse là in Dio nella contemplazione divina tutto si riassume è proprio l'implicazio di Cusano dentro al cristallo di nuovo cristallo invece di chiamarlo invece di chiamarlo Saturno invece di chiamarlo cielo di nuovo abbiamo una metafora più di una volta la troveremo questa formula dunque dentro al cristallo che il vocabol porta cerchiando il mondo del suo caro luce sotto cui giacque ogni malizia morta di color d'oro in che raggio tra luce e vi Dio uno scaleo eretto insuso tanto che non seguiva la mia luce allora dentro il cristallo chiamiamolo io non avevo messo metonimia perché lì siamo al limite metafora metonimia cristallo è un aspetto potrebbe essere metafora ma potrebbe essere un aspetto di questo cielo e quindi una parte un attributo al posto della sostanza una parte al posto del tutto potrebbe anche essere intesa come metonimia dentro quindi a questo cielo che porta il vocabolo che porta il nome vocabolo è composto da vox e da bulum bulum ha un valore strumentale una voce strumentale che serve per indicare qualche cosa porta alla formulazione di vocabulum che qui ha significato di nome dentro quindi a questo cielo che porta il nome cerchiando il mondo girando attorno il mondo porta il nome del suo caro duce cioè di saturno l'era di saturno i tempi d'oro quando saturno guidava il mondo e un po' il paradiso terrestre dei pagani era il paradiso terrestre dei pagani duce chiaramente come guida è un termine latino da dux ducis sotto il quale giacque morta ogni malizia sotto il quale ogni malizia giacque morta sotto il quale ogni cattiveria che oggi così fa soffrire la gente i popoli l'uomo giacque morta quindi non c'era potrebbe anche essere intesa come perifrasi allora dentro a questo cristallo di color d'oro notate oro tra luce il raggio vedete tutti senza che lo debba ripetere all'infinito questi questi vocaboli che abbiamo visto fin dall'inizio che si ripetono allora questo pianeta che aveva il colore d'oro nel quale traluce il suo raggio nel quale il raggio il radium vuol dire dunque anche qui bisognerebbe raggio radium vuol dire una bacchetta a guzza poi in modo traslato viene ad assumere il significato di raggio come lo intendiamo noi e translucere tralucere lasciar passare trasmettere la luce quindi questo pianeta di colore d'oro che trasmette la luce con il suo raggio io vidi una scala eretta in susu in susu da susu un latino che andava in su in su verso il cielo ne se ne vedeva la fine tanto che non seguiva la mia luce tanto che la mia luce è una metafora tanto che i miei occhi non non seguiva non ne riusciva a vedere la fine questo non l'ho perché è scaleo non lo seguiva è una fusione quindi io adesso non ve le dico tutte le volte questo è un anastrofe come vedete tanto che la mia luce non lo seguiva non lo seguiva questa è la scala vista da Giacobbe dal sogno di Giacobbe Genesi 28 12 e viene riproposta qui vidi anche per i gradini scendere giuso tanti splendor che io pensai con il lume che par nel cielo quindi fosse diffuso e io vidi per i gradini scendere giuso giù tanti splendori anche questa è una metafora tante luci che io pensai che ogni lume è un'altra metafora ogni stella che appare nel cielo fosse diffuso qui si fosse diffuso nel cielo da qui qui fosse l'origine dunque alcune cose gradi da gradum parliamo di scalino poi già in altri commenti in altri canti avevo individuato questo giuso giuso che ha un lungo cambiamento lungo i secoli giuso deriva da de orsum che diventa de osum che diventa di usum che diventa di usum che diventa giuso che diventa giù con apocope finale no? vedete perde l'ultima s.o. però in termino poetico al tempo di Dante e c'era ancora tutto intero noi oggi diciamo giù non diciamo giuso poi queste splendore e questo luce sono due metafore su splendore ne abbiamo già parlato deriva da splendere da splendere splendore luce splendente e poi lo troveremo spesso questo avverbio quindi che noi istintivamente potremmo dire di qui non è proprio questa la trasformazione quindi deriva da ecum inde ecco di qui ecco di qui da dove poi va via la ec va via la m e rimane quindi di qui in poche parole allora io vidi da questi scalini scendere giù tante luci che io pensai ma erano talmente tante che io pensai che ogni stella che appare nel cielo si fosse diffusa da qui da questa scalea notate io qui ho fatto anche degli altri collegamenti Genesi 15 5 22 17 Esodo 32 13 Deuteronomio 10 22 sono le immagini spesso riportate dalla Bibbia delle stelle del cielo per lo più quelle stelle del cielo riportate dalla Bibbia per indicarne un numero infinito un numero immenso vengono utilizzate in senso metaforico dai testi biblici per indicare la progenie di Abramo che sarebbe stata una moltitudine immensa come le stelle del cielo e come per lo natural costume le pole insieme al cominciare del giorno si muovono a scaldare le fredde piume poi altre vanno via senza ritorno altre rivolgono se onde sono mosse e altre rotteando fanno soggiorno e ci fermiamo guardate che non è finita la frase perché questa è tutta la comparativa noi sappiamo come al solito che nella frase dove c'è una comparativa anche in italiano capita che la comparativa viene prima della proposizione principale perché la proposizione principale è qui tal modo parli a me quindi però ci fermiamo su queste prime due strofe le pole sembra che sia un termine che deriva dal veneto sono i corvi allora e come per un'abitudine naturale le cornacchie insieme all'inizio del giorno si muovono per scaldarsi e alcune vanno via e non ritornano più altre rivolgono sé altre ritornano al loro nido e altre continuano a roteare a volare attorno al loro nido questo rivolgonsé da latino revolvere cioè rivolgersi indietro quelle re vuol dire indietro volvere volgere sé indietro quindi ritornare quel soggiorno a una valenza francese se giura residenza fanno stanza queste pole così definito con un termine probabilmente veneto vorrebbero in qualche modo significare la vita le abitudini dei mistici alcuni sono stati nella vita spinti da una carità naturale che li ha portati a predicare agli uomini senza più ritornare ai loro eremi ai loro monasteri alla vita eremitica altri invece dopo aver predicato ritornano dove ritrovano quella pace di cui non possono fare a meno altri ancora non si sono mossi mai da loro eremi e la fanno soggiorno quindi questa similitudine si complica dalle tre possibilità che le pole manifestano e che sono le tre possibilità della vita contemplativa dei mistici continuiamo perché non abbiamo finito tal modo parve me che qui vi fosse in quello sfavillar che insieme venne siccome in certo grado si percosse ecco tal modo parve a me a me parve che qui ci fosse un tale modo queste luci che salivano e scendevano da questa scala mi sembravano un po' come delle pole al mattino in quello sfavillare in quella luce in quell'insieme di luci che venne insieme siccome fino a quando non si percossi in un certo grado questo percosse da percutere percutere vuol dire sbattere con intensità qui mi pare un po' in senso traslato con valore di arrestarsi di arrestarsi quindi vorrebbe dire fino a quando non si arrestarono su un certo gradino questo si vale per così quindi abbiamo una feresi e quel che presso più ci si ritenne si fessi chiaro che io dicea pensando io veggio ben l'amor che tu m'accenne e c'è uno spirito che si avvicina in modo particolare a Dante e a Beatrice è quello che si tenne più vicino a noi più presso diventò così lucente che io diceva pensando ma io sto vedendo bene lo vedo come faccio a vedere l'amore è un po' difficile ma qui siamo nel mondo degli spiriti io sto vedendo l'amore attraverso la tua luce che tu mi dimostri quindi di nuovo il discorso di prima la luce in proporzione diretta all'amore alla conoscenza all'intelletto alla carità alla gioia perché la carità è gioia e se uno arriva alla carità anche conosciuto la verità allora fece e una pocope si da così e una fersi dicea cade la labiale diceva veggio cioè sia vedo che veggio dal latino video per cui abbiamo degli allotropi e possiamo andare avanti ma quella ond'io aspetto il come il quando del dire del tacer si sta ond'io contra il desio fo bench'io non dimando ma quella cioè Beatrice dalla quale io aspetto il come il quando dalla quale io aspetto sostanzialmente degli ordini cosa devo fare devo parlare devo devo avvicinarmi alla luce ebbene si sta sta fermo e non dice niente ond'io per cui io contro il mio stesso desiderio faccio bene penso di far bene a tacere e a non chiedere nulla ricordatemi sempre disio che deriva da desiderium perde il desiderium il deri rimane desio c'è una sincope no? ma anche fo la faccio abbiamo una sincope perde la ac perché la che vedea il tacer mio notate questo vedere io ho messo sinestesia come faccio vedere il tacere io sento sento che uno non parla però qui è sinestesia fino a un certo punto nella nostra prospettiva è sinestesia non nella prospettiva di Beatrice perché Beatrice vede nella verità eterna cioè in Dio visto che è un'anima che fa parte di tutta la schiera trionfante quindi contempla Dio e in Dio conosce i pensieri di Dante quindi sinestesia ripeto fino a un certo punto perché la che vedea il tacer mio nel veder di colui che tutto vede mi disse solvi il tuo caldo disio notate questo ripetere il vedere ma visto che quella che conosceva la ragione del mio tacere e la conosceva perché vedeva il tutto in colui che a sua volta vede tutto disse fidelmente solvi da solvere latino libera il tuo desiderio questo caldo disio può essere un desiderio caldo o lo consideriamo una metafora o lo consideriamo una sinestesia questo vedea veder vede una panalessi che insiste deliberatamente su una capacità che è dei beati che è dell'intelletto liberato dal corpo a questo punto Dante comincia a parlare rivolgendosi all'anima beata e io incominciai la mia mercede non mi fa degno della tua risposta ma per colei che chiedermi concede vita beata che ti stai nascosta dentro la tua letizia fammi nota la cagione che si presso mi t'aposta mercede latino vuol dire ricompensa e io cominciai la mia ricompensa il mio essere la mia condizione umana ma in modo particolare la mia condizione di Dante peccatore non mi fa degno di una tua risposta ma in nome di colei che mi concede di chiedere di domandare o vita beate una metafora che stai nascosta dentro la tua letizia letitia latino vuol dire sommo grado di gioia nascosta qui per modo di dire diventa anche questa una metafora che sei dentro la tua gioia dentro la tua luce di contemplante fammi nota nota da nascere latino conoscere notus participio passato fammi manifesta la cagione la ragione per cui tu proprio tu e non un'altra ti sei posta così vicino a me cagione anche questo un po' difficile da vederne l'etimologia da uccidere che vuol dire accadere da cadere occasione e da occasionem andando via lo c diventa cagione causa dimmi la ragione che t'ha posto si presso a me così vicino a me qui viene fuori un problema che è stato già affrontato altre volte il problema della predestinazione perché proprio io tu e non un altro spirito c'è una ragione voi che contemplate direttamente la luce divina mi sapete dare una risposta e di per ora teniamo la domanda così vedremo che cosa dirà Pier Damiani in seguito e di perché si taci in questa rota la dolce sinfonia di paradiso che giù per altre rotte suona non c'è che giù per altre suona si devota due sono le domande perciò che Dante pone all'anima che per ora non si è ancora rivelata non ha detto chi possa essere né Dante la conosce perché proprio tu e per quale ragione io non sento più l'armonia che sempre avevo udito negli altri cieli e dimmi perché in questa rota in questo cielo tace quella sinfonia dolce del paradiso che suona così devota giù per le altre rotte dolce ricordatevi già anche nelle composizioni poetiche di Dante è un aggettivo utilizzato molto frequentemente e dolce vuol dire tanto vuol dire tutto divota deriva dal verbo devovere che suona così divota consacrata a Dio risposta tu hai l'udir mortal siccome il viso rispose a me onde qui non si canta per quel che Beatrice non ha riso tu sei un uomo in carne ed ossa hai un udito mortale né più né meno come la vista mi rispose perciò qui non si canta per la stessa ragione che Beatrice non ha sorriso perché sareste annientato i tuoi sensi non permetterebbero di sopportare tanta altezza e questa è la prima risposta alla seconda domanda poi abbiamo la risposta alla prima domanda un pochettino più complessa premessa allora io sono disceso giù per i gradini di questa scala che definiamo santa solamente per accoglierti gioiosamente e accoglierti con le parole e con la luce nella quale io mi trovo vedete dire qui si intende rivelare si intende catechizzare catechismo vuol dire insegnare vuol dire conoscere di nuovo dire luce amore carità né più amor mi fece esser più presta che più e tanto amor quinci su ferve siccome il fiammeggiarti manifesta né amore mi fece mai più pronta perché di qui su brucia ferve un amore grande immenso come si manifesta nella luce che tu puoi contemplare in noi presta deriva da presto avverbio e vuol dire pronta su quinci andate a vedere cosa abbiamo detto di quindi e poi ricordiamoci che qui c'è un pensiero profondo che deriva anche da Tommaso d'Aquino tanta più luce tanto più amore tutto in proporzione nella vicinanza a Dio tutto è ordinato nella spospettiva di un ordinazio mentis a Deo e quello di cui è quello che abbiamo già letto prima beatitudine carità amore luce conoscenza gioia qui c'è amore c'è amore per voi per le creature per quei fratelli che sono ancora in itinere in cammino e questo amore si manifesta nella carità io sono sceso qui lungo queste scale per venirti incontro perché sono spinto dall'amore e questo amore mi fa pronto è questo che dovrebbe essere il cuore del cristianesimo essere pronto a parleremo poi non ho già fatto quel canto su Maria no? Maria che addirittura nel suo amore non solo risponde alle preghiere ma addirittura precede la stessa preghiera e questo dovrebbe essere l'atteggiamento dei cristiani questo atteggiamento nasce dalla conoscenza dalla conoscenza di Dio quindi dalla liberazione e tutto questo non può dare come effetto se no la beatitudine e la gioia se il mondo quindi tornando indietro in questo rapporto di causa-effetto non è beato e non è felice è perché non riesce a vivere questa carità e questo amore e non vive questa carità e questo amore perché non conosce e se non conosce è perché è nel buio ma l'alta carità che ci fa serve pronte al consiglio che il mondo governa sorteggia qui siccome tu osserve ma l'alta carità questa potrebbe essere una perifrasi cioè Dio che ci fa obbedienti pronte dunque al consiglio consiglio da consulere provvedere alla volontà che governa il mondo quindi alla volontà di Dio di nuovo una perifrasi sorteggia qui sorteggia deriva da sortis latino puoi sorteggiare destina qui le anime come tu vedi io veggio ben dissio sacra lucerna come libero amore in questa corte basta seguirla provvedenza eterna io vedo bene vi ricordate veggio vedo sono allotropi no dissio sacra lucerna una metafora sacra luce come in questa corte di nuovo una metafora in questi cieli l'amore libero è sufficiente a far seguire la volontà di Dio provvedenza eterna è una perifrasi non c'è più la difficoltà ad obbedire non abbiamo più una carne maledetta dal peccato per cui se noi conosciamo e conosciamo perfettamente non possiamo essere altro che spinti all'obbedienza nell'amore obbedienza e amore sono la stessa cosa di nuovo questa questo convergere di atti che spesso o quasi sempre in questo mondo sembrano opporsi sembrano contraddirsi ma a Dante questa risposta non basta ma questo è quel che a Cernar mi par forte perché predestinata fosti sola a questo ufficio tra le tue consorte ho capito bene che tu hai seguito la volontà di Dio perché però vediamo la costruzione ma questo è quello che più mi pare forte a Cernar Cernar vuol dire discernere capire ma questa è la cosa che per me è più difficile a capire perché sei stata predestinata proprio tu a questo ufficio a questo compito tra le tue consorte tra tutte le anime che stanno seguendo la tua stessa sorte ne dunque qui ho messo in rosso non per le ragioni di prima ma perché è un argomento un argomento centrale di questo canto cioè la predestinazione che poi non è proprio la predestinazione vediamo questo argomento dopo ne venni prima l'ultima parola che del suo mezzo fece il lume centro girando sé come veloce mola io non ebbi tempo di dire l'ultima parola che il lume il lume è di nuovo una metafora il lume fece centro del suo mezzo girando attorno come una trottola qui dice attraverso questa similitudine Dante come una mola veloce la mola è la pietra della macina del mulino esprimendo in questo atto di nuovo questa gioia estrema questa carità estrema di cui abbiamo già detto prima poi rispose all'amor che vera dentro di nuovo questo amor che è di nuovo una metafora o metonimia si vede un po' come si vuole poi rispose all'amor che vera dentro rispose c'è una u in più quindi c'è un'epentesi poi l'amore che vera dentro rispose così vediamo come risponde Pier Damiani qui non è facile infatti ho dovuto mettere delle parentesi vicino per capire altrimenti non si arriva luce divina sopra me s'appunta penetrando per questa in chi io mi inventro la cui virtù col mio veder congiunta mi leva sopra me tanto chi veggio la somma essenza della quale monta non è facile dunque qui luce ha un duplice valore di luce e di conoscenza che che è un'epentura che nella prospettiva paradisiaca non ha distinzione la dobbiamo distinguere noi altrimenti non riusciamo a capire quello che ci dice pensate a quale altezza arriva questa poesia dantesca la luce divina la luce divina in questo caso si intende proprio luce s'appunta sopra di me si ferma sopra di me sempre lo stesso soggetto non più con valore di luce ma con valore di conoscenza però questa conoscenza penetra attraverso la luce nella quale io mi inventro mi inventro è un neologismo dantesco perché non esiste inventrarsi andare dentro al ventre come un feto dentro al ventro della madre nella quale io mi immergo nella quale io sono dentro allora la luce arriva penetra dentro di me io mi immergo in questa luce e questa luce mi dà la conoscenza perché è luce di conoscenza e questa virtù cioè la conoscenza congiunta al mio vedere cioè l'intelletto mi leva sopra così tanto che io veggio lì all'otro che vi ricordate io vedo la somma essenza vedo Dio dalla quale monta da mulgere e mungere e derivare in senso lato da cui deriva quindi io contemplo Dio c'è anche qui però proprio perché non siamo nel panteismo ma c'è una corrispondenza tra la sostanza causa sui e la sostanza creata la sostanza che partecipa e la sostanza che crea un rapporto non basta che entri che arrivi la luce ci vede ci deve essere una risposta la risposta qui è una risposta d'amore non può non esserci ed è appunto la virtù il mio intelletto no scusate il mio vedere congiunta a questa virtù a questa luce che è luce di amore e di conoscenza io arrivo quindi a contemplare Dio e qui ci viene l'allegrezza un Dio fiammeggio perché alla vista mia quant'è l'è chiara la chiarità della fiamma pareggio di qui viene la mia gioia quella gioia di nuovo che è espressa dalla mia luce perché qui c'è una costruzione ancora più complessa di una semplice anastrofe pareggio la mia vista no scusate pareggio la chiarità della fiamma alla vista la mia vista quanto ella è chiara perché la mia fiamma è proporzionata la lucentezza della mia fiamma è proporzionata alla mia contemplazione però c'è un però ed è un monito per quei filosofi o pseudoscienziati che vogliono conoscere tutto e ritorna di nuovo il mio caro Pascal sul tutto l'uomo non può dire nulla anche lo spirito che contempla Dio sostanzialmente non può raggiungere neanche Maria neanche gli angeli possono raggiungere e cogliere l'abisso delle sue ragioni insomma la creatura non può cogliere il creatore il finito non può cogliere l'infinito il segmento non può cogliere la retta ma quell'alma nel ciel che più si schiara quel serafin che in Dio più l'occhio ha fisso alla dimanda tua non satisfara però che si si inoltra nell'abisso dell'eterno statuto quel che chiedi che da ogni creata vista è scisso ma quell'anima del cielo più splendente quel serafino il serafino il primo conangelico quello più vicino a Dio che ha fisso il suo occhio più in Dio non satisfara non potrà dare una risposta soddisfacente alla tua domanda satisfara satisfacere fare abbastanza soddisfare con il condizionale in ra vorrebbe dire non potrebbe non potrebbe soddisfare questo è un condizionale in ra però che col valore di perché quello che chiedi si inoltra tal punto nell'abisso dello statuto eterno della legge eterna statuto da statua e restabilire legge che è scisso e diviso da ogni vista creata anche qui potrebbe essere una metafora sarebbe dire da ogni intelletto dalla capacità intellettiva dell'uomo ma anche di uno spirito ma anche di un angelo ma anche di un serafino e a questo punto ecco il pensiero di Dante e al mondo mortal quando tu riedi questo rapporta sì che non presuma a tanto segno più muovergli i piedi e quando tu ritornerai riedi redire ritornare al mondo mortale rapporta questo da reportare riferisci questa cosa così che non presuma da presumere cioè ammettere anticipatamente pretendere così che il mondo mortale non pretenda di muovere i piedi a tanto segno è una perifrasi di non non pretendere di conoscere questa verità si profonda così lontana dalle nostre capacità di cogliere ciò che è vero e spiega ancora la mente che qui luce in terra fuma onde riguarda come può laggiù quel che non pote perché il cielo assuma la mente che qui brilla più chiara lucet latino in terra fuma c'è un'antitesi brillare e fuma può dire fumare trovarsi nel buio in terra si trova al buio onde riguarda un po' come può laggiù sulla terra c'è una E che si aggiunge un'epitesi quel che non può chi quel che serve mettere chi non può raggiungere questa verità attenzione a questo perché che ha valore di sebbene sebbene sia assunto in cielo ad sumere accogliere ecco a proposito della predestinazione di cui ho parlato prima la predestinazione questo argomento è stato già trattato a 13 112 al 20 a 133 qui i commentatori pensano che più che di predestinazione Dante vuole arrivare ad un argomento ancora più sottile non la predestinazione ma la provvidenza cioè il fatto che Pierdiamidani sia sceso da questa scalea e si sia presentato a Dante più che una predestinazione è una provvidenza è un governo perché Dio ha voluto così la predestinazione invece è qualche cosa di più complesso che viene trattato negli altri passi ma che sostanzialmente dà la stessa risposta predestinazione attenzione non stiamo parlando di predestinazione alla maniera protestante della riforma predestinazione alla salvezza predestinazione alla dannazione ma la predestinazione ha determinati ruoli a determinati compiti qui si sottolinea più che altro la predestinazione intesa dunque come provvidenza come governo del mondo si mi prescrisse le parole sue che io lasciai la questione e mi ritrassi a dimandarlo umilmente dunque qui ho dimenticato una jambe ma mettiamolo subito allora le sue parole mi prescrisse così prescrivere scrivere prima sostanzialmente per esteso mi ordinarono così così io lasciai la questione la questione latino lasciai questa indagine e mi ritrassi e mi limitai a chiedere umilmente chi fosse fu questa e epitesi e l'anima si presenta tra due liti d'Italia surgon sassi e non molto distanti alla tua patria tanto che troni assai suonan più bassi e fanno un gibo che si chiama catria di sotto al quale è consecrato un ermo che suolo essere disposta sull'anatria litus litoris vuol dire spiaggia sassi è una metonimia sta per appennini tra le due i due litorali dell'Italia sorge la catena degli appennini e non sono molto distanti dalla tua patria tanto che queste altezze fanno sì che i troni cioè i tuoni suonano più bassi siano più bassi siano più bassi della loro altezza a un certo punto questi sassi questi monti fanno un gibbo gibus latino gobba fanno una prominenza che si chiama catria catria è un nome sotto questo monte è consecrato un ermo ermo da greco ermos solitario un luogo solitario ricordiamo dove è stato Pier Damiani cioè Santa Croce che è solito essere disposto a sola latria anche qui dal greco latria servizio e un servizio ben specifico un servizio al culto di Dio quindi sta definendo un un eremo nel quale il santo era stato nel quale aveva passato lungo tempo della sua vita e che aveva in qualche modo santificato con la sua vita una vita eccezionale di obbedienza di umiltà e di povertà così ricominciò il terzo sermo vi ricordate prima che cosa gli risponde poi la seconda risposta e adesso abbiamo la terza risposta sermo discorso così il terzo discorso cominciò e poi continuando disse quindi al servigio di Dio mi fessi fermo che pur con cibi di liquore d'ulivi lievemente passava caldi e geli contento nei pensieri contemplativi quindi io ero qui in questo eremo al servizio di Dio servigio attenzione che un altro allotropo può avere due forme servizio e servigio io mi feci si fermo no feci un apocope mi feci così determinato a servire Dio che pure avverbio che semplicemente passava caldi e geli è una metonimia vuol dire passavo gli inverni e le estati sereno leggero cibandomi con alimenti conditi con liquori d'olivo il liquore è un liquido oggi ha assunto il valore di bevanda alcolica ma liquore di per sé non ha valore di bevanda alcolica è semplicemente un liquido una bevanda quindi conditi con con olio lievemente lievemente è importante questo levis leggero leggero perché leggero dalle cure di questo mondo leggero perché contemplante quindi col mio cuore rivolto a Dio sereno e pacifico da tutte quelle battaglie che invece si combattono perennemente in questa vita e lo dice infatti dopo contento in questi pensieri che erano pensieri di contemplazione render solea quel chiostro a questi cieli fertilmente e ora è fatto vano sì che tosto conviene che si riveli dunque solevo rendere solevo rivolgere questo chiostro evidentemente non il chiostro è una metonimia ma coloro che frequentavano questi chiostri i monaci solevo portare rivolgere i monaci all'attenzione di questi cieli quindi attraverso la pratica della preghiera e della contemplazione solea è una caduta della labiata e in modo fertile tanti mi avevano seguito purtroppo ora abbiamo un'antitesi questo chiostro è fatto vano 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 vuol dire vuoto è diventato vuoto probabilmente Dante sa qualche cosa che è successo di scandaloso in questo ma non si dice che cosa e i critici sostanzialmente non ne sanno nulla sì che tosto conviene che si riveli tosto l'avevo già commentato una volta deriva da rostus che vuol dire bruciato e presto conviene tutti saranno d'accordo a a rivelare a in qualche modo mettere il dito sulla piaga e a considerare quali sono le ragioni di questa decadenza e qui è il preludio che poi troveremo nel ventiduesimo canto che ci presenteranno le lamentere di San Benedetto contro il suo ordine vi ricordate le parole dei già le apostrofe che abbiamo trovato con dei canti di Francesco e di Domenico Buonaventura e Tommaso d'Aquino Tommaso d'Aquino che lanciava delle invettive contro i Domenicani Buonaventura contro i Francescani contro quindi una vita che avrebbe dovuto essere rivolta a Dio e che invece col passato del tempo si manifestava sempre più corrotta ora Pier Damiani fa parte di di quest'ordine di San Benedetto e quindi è già una premessa a quelle lamentere che troveremo poi nel canto successivo nel ventiduesimo bene in quel luogo locus latino io mi fu chiamato Pietro Damiano poi cambiai il mio nome da Pietro Damiano a Pietro Peccatore nella casa di nostra donna probabilmente passò da quell'eremo a Santa Maria in Ravenna fu di nuovo in un apocope insullito l'Itus di nuovo il litorale Santa Maria di Ravenna che si trova sul litorale Adriatico poca vita mortal me la rimasa quando fui chiesto e tratto a quel cappello che pur di male in peggio si travasa mi era rimasta poca vita ormai da vivere ero alla fine dei miei anni quando fui chiamato alla dignità cardinalizia qui espressa dal cappello metonimio metafora vedetela voi che purtroppo si travasa trans vas passare da un vaso all'altro passa oggi questa dignità di male in peggio e quindi un'invettiva che inizia qui con apostrofe invettiva con ironia e sarcasmo contro la carica dei cardinali e come si presenta questa invettiva così ricordando la vita degli apostoli in modo particolare Pietro e Paolo venne cefas e venne il gran vasello dello spirito santo magri e scalzi prendendo il cibo da qualunque ostello ci fu cefa che in ebraico vuol dire Pietro è il nome che Gesù aveva dato a Simone ci fu il gran vasello viene definito negli atti 9 e 15 il vasis elezionis Paolo il grano vasello dello spirito santo perché illuminato direttamente dallo spirito entrambi erano magri e scalzi poveri e prendevano un cibo umilmente ovunque glielo potessero offrire ostello deriva da auspizio bellus al valore diminutivo piccolo albergo in qualsiasi dicettacolo ecco l'antitesi or vogliono quince e quindi chi rincalzi i moderni pastori e chi li meni tanto son gravi e chi di rietro li alzi ora i moderni pastori cosa fanno vogliono che ci sia qualcuno che li rincalzi e li guidi di qui e di là devono essere sostenuti tanto sono pesanti pesanti in senso metaforico non pesanti solo perché ingrassati come dei porci ma pesanti della loro superbia del loro orgoglio e c'è chi ha un altro compito quindi bisogna essere almeno in tre e c'è chi deve tenere alto il loro strascico quopron di manti lor palafreni sì che due bestie vanno sotto una pelle oh pazienza che tanto sostieni quopron da coprire ricoprire ricoprono con i loro manti i loro tutto quello che può essere ricco di cui si vestono i loro cavalli i parafreni sono quei cavalli che vengono utilizzati per i destrieri sono quelli che servono per la guerra i ronzini per i lavori pesanti i parafreni invece sono quelli quei cavalli che vengono utilizzati per i cortei solenni e di nuovo ironia e sarcasmo cosicché due bestie vanno sotto un'unica pelle le due bestie sono il cardinale e il cavallo il parafreno sotto un'unica pelle sotto questo manto così lungo da essere strascico ed avere bisogno di valletti che lo sollevino e poi di nuovo un'apostrofe oh pazienza di Dio fino a quanto sopporti subtenere tenere sopra fino a quanto sopporti cose di questo genere stiamo per finire a questa voce vi Dio più fiammelle di grado in grado scendere girarsi ogni giro le faceva più belle a queste parole quasi a confermare l'apostrofe e l'invettiva tutte le altre fiammelle scendono e si accostano a Pier Damiani e la loro luce di approvazione le rendeva facea caduta del rabiale sempre più belle vennero a fermarsi d'intorno a questa vennero a fermarsi e fero un grido di si alto suono che non potrebbe qui assomigliarsi né io lo intesi si mi vinse il tuono vennero a fermarsi intorno a Pier Damiani e fecero cade la C quindi c'è una sincope e fecero un grido così alto che qui su questa terra non se ne potrebbe produrre uno simile e io non lo intesi né riuscì a capire un momento io lo intesi ma non riuscì a capirne il significato perché tale fu questo grido che mi vinse e quindi persi i sensi no venne per un momento stordito sì mi vinse il tuono mi vinse così tuono abbiamo già detto è una metafora in questo caso perché viene paragonato questo grido al tuono così cade la Co e una Feresi il tuono mi vinse vinse i miei sensi per cui ne fui ne fui stordito ma riuscì ad intuire che era un segno di approvazione l'approvazione dei mistici alle parole di condanna pronunciata pronunciate da Pier Damiani a Grazie.